Anci Lombardia è rappresentanza politico-istituzionale, servizi per i comuni associati, progetti. La rappresentanza politico-istituzionale è la funzione prevalente dell'associazione, attraverso l'operato dell'ufficio di presidenza e la partecipazione degli amministratori locali agli organi associativi. Nel mandato l'attività si è rivolta verso nuovi stakeholder. Nei cinque anni di mandato sono stati firmati 60 protocolli d'intesa. Nella nuova Casa dei Comuni Lombardi, inaugurata nel 2016, si sono svolti oltre mille incontri, giornate di formazione e seminari ogni anno. Complessivamente, il gradimento dei sindaci lombardi per l'attività di Anci Lombardia è cresciuto di 14 punti percentuali tra il 2014 e il 2019. Anci Lombardia opera come sistema con la società In House Anci Lab, IFEL e Anci Lombardia Salute, per offrire ai comuni associati servizi qualificati per affrontare i cambiamenti della pubblica amministrazione. Nei cinque anni di mandato, Anci Lombardia ha prodotto eventi di formazione e informazione e formato migliaia di volontari e tirocinanti all'interno dei comuni. I progetti sono stati fondamentali per innovazione, nuove partnership, nuove risorse e per portare i comuni lombardi anche in Europa. Anci Lombardia è anche solidarietà. Dal 2016 ad oggi, Anci Lombardia ha attivato azioni di supporto per i comuni del centro Italia, colpiti dal sisma, e per quelli veneti, colpiti dall'alluvione. È proseguita anche l'assistenza ai comuni del Mantovano, colpiti dal terremoto del 2012. Trovi tutto questo e altro sfogliando il bilancio sociale oppure su www.ancilombardia.bilanciosocialeonline.it, il primo bilancio sociale online di un'associazione di rappresentanza in Italia.